la fortuna ci sta per arrivare incontro c'è l'oroscopo ben trovate da mauro due giugno adesso l'almanacco con tutto quanto ne consegue oggi è santa eugenio poi abbiamo i compleanni tony hedder il cantante degli spandau ballet è nato il 2 giugno nel 1960 un attore un conduttore un modello allora valternudo è nato il 2 giugno del 1970 e come detto andiamo incontro alla fortuna la frase di oggi contadini scarpe grosse e cervelli fini ariete il favore degli astri vi spinge a inserirvi con vera gioia in nuovi ambienti ad ampliare il giro delle amicizie e a fare nuove conoscenze non siete mai stati così dinamici ed impegnati come in questo momento toro miglioramenti e soddisfazioni professionali sono in vista e le vage promesse che vi sono state fatte hanno un alta percentuale di essere mantenute chi fra voi aspetta cambiamenti sostanziali potrebbe non essere deluso gemelli per quanti tra voi si sono da poco innamorati la giornata a tesori di tenerezza affetto dolcezza reciproca attrazione fisica e grande affaiatamento se durasse così per tutta la vita sareste decisamente i più felici del mondo cancro le vacanze sono ormai vicinissime quindi rimandare la decisione di dovere trascorrerle non è indicato pena prezzi più cari e alloggi di difficile reperibilità fate al più presto un necessario consiglio di famiglia a questo proposito leone senso di partecipazione capacità induttiva e rapidità nelle deduzioni vi aiutano ad arrivare ben prima degli altri a identificare un possibile problema prima ancora che si presenti e a sistemare le cose nella maniera più giusta vergine un grande pericolo vi sovrasta quello di innamorarvi di una persona conosciuta da poco se non avete paura di un sentimento totale coinvolgente esaltante e magnifico ma anche problematico e complicato fate pure bilancia anche se vi troverete a ricevere un secco rifiuto sarete disposti ad accettarlo sorridendo perché siete talmente sicuri di spuntarla prima o poi che nulla può smontarvi non trascurate però i doveri familiari scorpione attenzione alla fatica non abusate delle vostre forze o ancor prima che la giornata lavorativa sia conclusa vi troverete spompati se qualcosa non vi convince parlatene apertamente con i diretti interessati sagittario giornata statica quella che vi attende chi conduce un'attività piuttosto sedentaria dovrebbe cercare di trovare il modo di muoversi stasera accettate un invito ricevuto all'ultimo momento un capricorno con il trascorrere delle ore dovrete vivere molte forse troppe emozioni attenzione perché potreste non riuscire a gestire l'ansia e di conseguenza non riuscire a placare il nervosismo scegliete di trascorrere una serata di tutto relax acquario furoreggerete con una spesa fuori programma che oltre alla vostra farà la felicità dei vostri cari attenti però a non fare il passo più lungo della gamba non è questo il momento di eccedere con le spese pesci otterrete molti consensi oggi qui faranno seguito le inevitabili gelosie di un ambiente circostante piuttosto invidioso del vostro successo non date troppo peso a tutto ciò quanto vi viene riconosciuto lo meritate davvero grazie a tutti